ragazzi crede che è successo io stavo votando veramente stavo votando che stavo segnando io ho visto uscire ggr inferocito hanno annullato i voti perché non aveva la matita si è fatta per stare la matita da nemethys però questa matita in poche parole era tipo magica non so cosa è successo e senza che lui voleva automaticamente la matita stessa ha scritto i stessi voti di nemesis e inferocito ha detto che hanno annullato il voto perché però non è colpa sua era la matita magica che ha fatto ha scritto i voti però lui mi ha detto che sono stati annullati mi dispiace ho cercato di calmarlo ma non c'è stato verso non c'è stato verso sa proprio arrabbiatissimo ggr arrabbiatissimo